Qualche settimana fa abbiamo conosciuto questo prodotto in versione, diciamo, preview, abbiamo giusto visto gli elementi principali. Adesso andiamo ad approfondire la conoscenza del nuovo LG Q6, arriva nei negozi a meno di 300 euro. Torno dunque sul tema di LG Q6 per mostrarvi dunque questo prodotto con il famoso full vision display, cioè quella soluzione che ha ridotto drasticamente le cornici di questo telefono portando la dimensione complessiva, diciamo, ad un livello molto, molto, molto accettabile. Perché pensate che, insomma, questo telefono, pur essendo contenuto nella sua dimensione, ha una diagonale da 5,5 pollici. Bisogna dire che questo porta il telefono ad avere una razio molto particolare, diciamo, un numero di pixel particolare perché è 1080x2160 pixel. Sulla parte posteriore c'è il sensore fotografico da 13 megapixel, mentre per quanto riguarda la camera anteriore siamo a 5 megapixel con l'apertura 2.2. Il sensore frontale, tra l'altro, ha sempre un'apertura 2.2 pixel leggermente più grandi per una cattura di immagini, insomma, diciamo, di buona qualità. Ecco, questo telefono comincia ad avere competizioni, no? Cioè, abbiamo visto che Wiko, ad esempio, ha lanciato un prodotto con la stessa razio 18 noni qualche giorno fa. Però devo dire che forse gli elementi distintivi di questo prodotto stanno essenzialmente nel software. Intanto, sottolineo il fatto che all'interno di questo telefono ci sia comunque già Android 7.0, no? Andiamo a vedere esattamente 7.1.1 per la precisione. Un prodotto, secondo me, che ha in alcune caratteristiche i suoi elementi distintivi. Ad esempio, il fatto che voi possiate fare un selfie già quadrato. Questa è una delle possibilità che avete. Vedete, la modalità di ripresa del vostro telefono essenzialmente può essere, ad esempio, quella dello scatto quadrato. Oltre a questo, il Q6 riprende alcune delle caratteristiche fotografiche del G6, ma anche del successivo V30, con, ad esempio, la guida a scatto. Voi potete, faccio un esempio, fare una foto a questa mano sullo sfondo dei monumenti, tenere la mano come guida e quindi proporre, ad esempio, delle GIF animate molto carine. Oppure potete scegliere, lo vedete, il fatto di avere una griglia di scatti, quindi di affiancare alcuni scatti per comporre poi una griglia quadrata. Vedete che essenzialmente io scatto 1, poi scatto 2, in questo caso le foto saranno sempre le stesse, scatto 3 e poi scatto 4. Vedete, ho composto una griglia che in questo momento posso, una volta che ho scelto di utilizzarla, posso andare essenzialmente poi a condividere sui social. Oltre a questo, avete la possibilità, ad esempio, di fare uno scatto con un gesto della mano, sempre per quanto riguarda i selfie. E poi, non solo, avete anche la possibilità di fare uno scatto con la parola cheese, con la parola whiskey, con addirittura la parola LG. Quindi, insomma, facilitare lo scatto di un vostro selfie, evitando, ad esempio, il fastidio di dover muovere la fotocamera proprio nel momento in cui voi fate un'azione di questo genere. Allora, io trovo che in effetti la cura del software sia il vero elemento di differenziazione tra questo telefono e molti altri che trovate in circolazione, che hanno magari caratteristiche tecniche anche superiori dal punto di vista semplicemente dell'hardware. Vedete sempre le modalità di scatto che potete utilizzare con la modalità quadrato, con la modalità base. Quando entrate in modalità base avete essenzialmente ulteriori possibilità di scelta. Anche in questo caso con la possibilità di avere l'HDR, che è una delle opzioni che avete, e poi di scegliere essenzialmente quale tipo di risoluzione volete, ad esempio, per i video, nel caso in cui voi girate i video, oppure la scelta anche della dimensione delle foto. Vedete, potete scegliere tra 4 terzi, tra 16 noni, oppure tra i 18 noni che vanno a riempire essenzialmente tutto il display. Questo prodotto non ha un sensore di impronta digitale. Vedete, essenzialmente, che non ci sono sensori di impronta digitale. Andando a vedere il telefono, abbiamo visto prima, fotocamera dunque da 13 megapixel, l'altoparlante è in questa parte inferiore. Su questo lato avete il cassetto per la SIM e la microSD, il volume rocker, quindi il controllo del volume in questa posizione. Sulla parte superiore, essenzialmente, avete sotto solo il secondo microfono per il bilanciamento del rumore, il pulsante di accensione, nella parte inferiore il connettore, che curiosamente è un micro USB, non è USB Type-C, e poi il connettore per le cuffie da 3,5 mm. Non c'è il sensore di impronta digitale e allora avete essenzialmente una possibilità di scegliere il blocco dello schermo, ad esempio con il riconoscimento del volto. Lo potete fare con, ad esempio, un riconoscimento del volto avanzato. Questo vi permette essenzialmente di non farvi gabbare da una fotografia o da un vostro video mostrato davanti al telefono, però rallenta essenzialmente lo sblocco del vostro telefono. Quando dovete settare il riconoscimento del volto, basta essenzialmente che voi alziate e abbassiate la testa in modo, diciamo, molto molto semplice. Ecco, ma il telefono poi come funziona? Diciamo che, insomma, il telefono non ha esattamente una dotazione tecnica di quelle da paura, perché all'interno c'è lo Snapdragon 435, un processore che, diciamo, è una sorta di fiatuno dei processori, no? Parco nei consumi, discreto nel funzionamento, però ecco, vedete, come in questo caso, il processore, insomma, diciamo che non è sicuramente tra i più potenti in circolazione. Non farei del processore l'elemento di scelta di questo telefono, che pur comunque ha una buona dotazione, perché poi al suo interno, ad esempio, ha 4 GB di RAM che lo rendono, secondo me, appetibile. Per quanto riguarda la memoria interna, avete allora tre versioni. 2 GB di RAM con 16 GB di memoria, 3 GB di RAM con 32 GB di memoria e 4 GB di RAM nella sua versione con 64 GB. La versione che sto provando io è quella con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, che, come detto prima, sono espandibili poi con la microSD utilizzabile in questo cassettino, fino a 256 GB di memoria. Prima vi ho mostrato la fotocamera velocemente, ma non vi ho fatto vedere essenzialmente il tempo di scatto, no? Vediamo quanto richieda la messa a fuoco e lo scatto. Vedete che la memorizzazione è praticamente immediata, come spesso accade, tra l'altro, con i prodotti di LG. Una volta che avete scattato la vostra immagine e che vi appare nella galleria, sapete che avete questa linguetta che vi permette di condividere essenzialmente in tempo reale la vostra immagine con la condivisione, insomma, a seconda delle applicazioni installate. Ad esempio, non ho qui Twitter su questo telefono, se no apparirebbero Twitter, Facebook e tutte le opzioni di condivisione. Quindi, rivediamo ancora una volta, vedete il tempo di scatto comunque molto veloce. Se volete, una volta messo a fuoco, avete la possibilità di regolare essenzialmente l'esposizione della vostra fotocamera. Foto, diciamo, discrete. All'interno del nuovo Q6 c'è anche la radio, della radio FM disponibile, che secondo me è sempre un'opzione interessante, avrete modo di ascoltare i programmi di Mr. Gadget, avete modo di ascoltare il mio meraviglioso programma radiofonico. Vedete in questo punto la presenza dunque della radio FM. E poi, insomma, milioni di applicazioni che potete piazzare con Android. Peso, tutto sommato più che accettabile, 149 grammi. Ripeto che parliamo, vi ricordo che parliamo di un telefono da 5,5 pollici di diagonale, 142,5 mm, 69,3 mm e 8,1 mm di spessore, che ne fanno comunque un prodotto, secondo me, più che trasportabile e più che tascabile. Diciamo che Q6 ha dalla sua, la presenza del full vision display, un'ottima cura, secondo me, dei dettagli per quanto riguarda il software. Ecco, forse dal punto di vista tecnico, diciamo, non è uno dei prodotti più performanti del mercato. Però, tutto sommato, insomma, con il prezzo che è inferiore ai 300 euro che trovate oggi sul mercato, credo che sia un buon bilanciamento tra costi e benefici. Come al solito, perché so già quali sono le vostre obiezioni, si può trovare di meglio con prezzi più bassi, ma questo, insomma, capita con qualunque prodotto, noi possiamo analizzare in qualunque momento. Io apprezzo la scelta di LG di portare full vision display su questo prodotto. Mi piacerebbe vedere anche un ulteriore salto in avanti nelle specifiche tecniche. che sarebbe sicuramente gradito.